Rossignol Hero World Cup 140 ideati per le gare agonistiche e lo sci su pista. Questi scarponi potenti ad alte prestazioni presentano una vestibilità stretta adatta a una sciata tecnica. Lo scafo in doppio materiale offre un ritorno e una flessibilità dinamici che fanno dello scarpone la continuazione naturale della gamba per prestazioni migliori e un controllo totale a ogni curva. Ha una vestibilità anatomica con una pianta di 97 mm. Ho provato a secco uno scarpone che della categoria rispetto ai concorrenti è anche più semplice da indossare e da togliere. Mi è piaciuto. Anche quando ce l'hai ai piedi è confortevole, quindi prova a secco, superanda, bisogna provare il piste. Vediamo l'entrata. Devo dire che per essere un 140 si entra facilmente. Adesso vediamo la chiusura dello scarpone. Il gambaletto è un po' difficoltoso a chiudere, cioè il gancio è un sereno. Bisognerebbe regolare le leve. Se gli diamo una bella chiusa e vediamo come si sta al suo interno. Quello che sento fin da subito non ha pressione al tallone e non lo tiene molto fermo. Quello che non mi piace è l'abbondanza che ha la pianta e il gambaletto. Non lo sento così preciso. Adesso proviamo a toglierlo. Si sgancia facilmente anche il busto.